Di notte, a luce spinta, fare il punto, ricapitolare, fare chiarezza, passare il rassegna lentamente le azioni compiute e considerare la loro effettiva necessità, votare i rami secchi, lavare via le impurità, ricondurre tutte le forze alle azioni necessarie in vista di ciò che vogliamo si realizzi. In quel momento non si odono voci, né squilli, nessuna presenza dall'esterno. In quel momento possono aversi rivelazioni dall'interno, pensieri sopiti possono affiorare e nuove idee nascere. Fra il sonno e la veglia c'è un momento di lucidità estrema in cui possiamo dare una risposta alle nostre interrogazioni. Cosa stiamo cercando? Essere più chiari con se stessi, terminare ogni attività superflua e priva di prospettive.